C'è un'è? Capite, le lacrime io. Antonio Russo, all'epoca inviato di Radio Radicale, è stato ucciso il 16 ottobre 2000 a Tbilisi, in Georgia. La sua colpa, raccontare la guerra russo-cecena, scoprendo le atrocità commesse contro la popolazione civile cecena. Oggi a Francavilla al Mare è stata presentata l'undicesima edizione del premio nazionale sul reportaggio di guerra a lui dedicato. Per la sindaca Luisa Russo, non un premio come gli altri. Antonio Russo era mio cugino, era un reporter di guerra e lui era in Georgia alla ricerca della verità e per raccontare a tutti noi quali erano i fatti e veramente ciò che si stava verificando su quel territorio di guerra. Oggi il tema è sempre più attuale, abbiamo scenari di guerra diffusi in molte parti, molto molto delicati e quindi è bene onorare Antonio ma onorando lui ricordare, raccontare a tutti qual è il valore dei reporter di guerra. La premiazione che vede come media partner Reteotto e Il Centro sabato 12 ottobre in due momenti differenti. In mattinata incontro con gli studenti del liceo scientifico e poi nel pomeriggio alle 17 a Palazzo Sirena la cerimonia di premiazione delle sei sezioni del premio. A presentarla il direttore del quotidiano Il Centro, Luca Telese. All'iniziativa parteciperanno anche alcuni artisti, tra i quali Michele Placido. Questi invece i premiati delle sei sezioni, televisione, operatore tv, carta stampata, fotografia, podcast e premio alla carriera. Ancora la sindaca. Stefania Battistini, Simone Traini che sono attualmente, hanno ricevuto un mandato di arresto da parte di Putin ma sono sul territorio italiano e quindi sono assolutamente protetti dallo Stato italiano. Poi ci saranno Fabio Tonacci per la carta stampata, Andrea Spannaus per la sezione podcast, Gabriele Michalizzi per la fotografia e Mauro Galligani come premio alla carriera.